Con il voto favorevole della maggioranza, 29 sì, quello contrario dei 5 stelle, l'assenzione di centrodestra insieme per il futuro, il Consiglio regionale della Campania ha approvato il disegno di legge in materia di disposizioni, in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Il provvedimento composto di sette articoli è diretto ad introdurre in Regione Campania disposizioni di semplificazione amministrativa in materia edilizia, una disciplina stabile orientata a ridurre il consumo del suolo promuovendo interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in luogo di creazione di nuovo edificato. Secondo Vincenzo Ciampi del Movimento 5 Stelle così si apre la porta alla liberalizzazione edilizia a un vero e proprio far west edilizio. Si va ad incidere in un settore come quello dell'edilizia privo di strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione del territorio non aggiornati. La mancanza di questi strumenti di programmazione, ad esempio il piano paesaggistico, andare ad agire sul piano della liberalizzazione o della semplificazione su singoli aspetti è del tutto fuorviante e non raggiunge l'obiettivo che è quello della rigenerazione urbana, fra l'altro oggetto di una normativa nazionale come quella del superbonus. Critico e leghista Severino Nappi. Noi come Lega abbiamo posto invece una questione fondamentale, abbiamo presentato in Commissione e ripresentiamo in Aula una serie di emendamenti che riguardano invece un tema importante, quello del sostegno per dare una risposta all'abusivismo di necessità. Noi pensiamo che ci siano le condizioni perché la Campania si esprima con chiarezza su questo tema, proponendo con una normativa regionale una proposta che poi va valutata dal Governo nazionale, ma dobbiamo uscire dall'imbarazzo di questa vicenda. I campani devono avere una risposta come è accaduto in altre realtà ed in altre regioni. Linea di credito aperte da stensione grazie ad alcuni emendamenti approvati in Commissione da parte di Valeria Ciarambino che rappresenta il neonato movimento che fa capo Luigi Di Maio. Grazie al nostro lavoro sarà possibile applicare il piano casa, questa nuova norma, chiamiamola il nuovo piano casa, una sola volta per ciascun edificio. Non sarà possibile beneficiare degli incrementi volumetrici per gli edifici che hanno già beneficiato del vecchio piano casa. Si dovrà tener conto nella concessione di queste autorizzazioni della presenza di servizi e di standard urbanistici su cui abbiamo voluto mettere l'accento. Deciso a far valere le ragioni del provvedimento il relatore della norma Luca Cascone. Abbiamo tanti volumi abbandonati, tante aree depresse che vanno riqualificate ed è chiaro che per riqualificare le città a consumo zero del territorio, quindi senza ulteriori volumi che occupano spazi, non si può che riqualificare i volumi esistenti magari degradati, abbandonati, pensiamo alle classiche industrie che non sono più attive. Per fare questo non si può che non dare una premialità a chi decide di investire e questo è quello che vuole fare questa legge, quindi riuscire a riqualificare, a bellire le nostre città creando anche uno slancio all'economia ma col consumo zero, con una grande valorizzazione degli spazi verdi che devono essere comunque sempre presenti, con una importanza di edizione alla sostenibilità, al recupero ambientale, ai parcheggi e a tutto quello che sono gli standard.